Waihekuj, benvenuti da vostro, AndriNik91 su Inazuma11, goluce e siamo al quarto episodio Ed oggi inizia il secondo capitolo, sinceramente se i capitoli prendono un po' di più in questo Inazuma11 Non mi interessa, non me ne frega, è proprio un accidente, ma sono contentissimo di giocarlo Forza JP, non restare indietro, eh sì, siamo appena entrati nella Raimon e quindi dobbiamo subito andare ad allenarci Rallenta, Ari, nelle mie gambe non sono lunghe quanto le tue Eh ma dopo, oh oh, JP è un personaggio veloce, imparerà a essere veloce Ah sì, scusa, ho già proprio la testa fra le nuvole Ancora non riesco a credere che ce li daremo con i club di calcio Raimon Già, neanche io A mo' corre, ma corre uguale a Arion, perché prima non poteva farlo? È tutto per la riunione di oggi Si avvicina il cammino imperiale, il torneo di calcio scolastico più importante del paese Voglio che siano tutti al massimo della forma Non mentirò, il cammino imperiale mi è piaciuto di più del Football Frontier Non tanto perché i campi sono tutti quanti particolari, ma per le squadre A me il Football Frontier l'unica squadra che mi è piaciuto davvero affrontare è stata la Zeus La squadra finale di Nazuma Eleven E mi è piaciuta davvero tanto L'unica Voglio dire, ok, se non ci fosse stato in Nazuma Eleven Go con questo cammino imperiale Sicuramente Football Frontier International mi sarebbe piaciuto di più del Football Frontier Se dovessi fare una scaletta farei cammino imperiale, Football Frontier International e Football Frontier Per quanto mi riguarda Poi uno può avere gusti differenti Per carità mi piacciono tutti e tre, però Il cammino imperiale è il torneo che più mi piace Parteciperemo al torneo quest'anno, anche se ci sono rimasti pochi giocatori in squadra Certo, dobbiamo partecipare Altrimenti tutto quello che abbiamo passato finora sarà stato per niente Ma siamo sulla lista nera del quinto settore Non abbiamo possibilità di vincere Ci mandranno sicuramente fuori a primo turno Eh, volevano, ma... Poi vedremo Di che parli? L'anno scorso siamo arrivati i secondi Non ci farebbero mai una cosa del genere Capisco che siete tutti preoccupati per il club Aspetta a me rimettere le cose a posto L'allenamento di nuovi giocatori inizia oggi, giusto? Sì Ma sono dei novellini Non sanno nemmeno calciare i palloni come si deve Boom! Beh, neanche un ramo dei fenomeni quando abbiamo iniziato E poi quei due hanno qualcosa di speciale, me lo sento Proprio quello che ha detto l'allenatore Travis Sì Infatti Travis ha detto Non l'hai visto Riccardo? Che due sono speciali Alla fine dello scorso Del provino Se ne vanno anche loro, mi sa Non ricordo il preciso Capitolo 2 Un finale già scritto Mi ricordo che se ne va un altro Ma quei due non mi ricordo Se se ne vanno oppure no Il centro sportivo è davvero enorme Rimango a bocca aperta tutte le volte Mi ci vorrà un po' per abituarmi Ci puoi scommettere E dobbiamo incontrare gli altri nell'atrio Dai andiamo Bene Il finale è già scritto Oggi il primo giorno è membro della Remora a tutti gli effetti Chissà cosa mi aspetta Incontra tutti nell'atrio Bene Ah se non lo sono qua dentro Eccomi Travis Ascoltate Questi sono i due nuovi giocatori Su ragazzi Presentatevi Mi chiamo Jean Pierre LaPenne Sono a primo anno Alle elementari giocavo in difesa Prometto di dare sempre meglio di me Io mi chiamo Arian Sherwind Anche io sono uno studente a primo anno Adoro il calcio e come GP era il massimo Mi chiamo Barry Sì Beh piacere di conoscervi Mocciose Ora fai finalmente parte del club di calcio Raimel Gli altri membri del club giocano quindi nella tua squadra Ah la mia squadra ora Ok Ora sarebbe caso che ci presentassimo noi Oh che edificio splendido Credo che mi piacerà stare qui Chi è stato a parlare? Dovina un po' Io lo so Scusate Ah lei è stata Pensavo fosse Blade Io mi chiamo Sky Blue A saperlo E mi piacerebbe tanto Fare la vostra manager Sì che bello Gioè dici sul serio Beh sì Bene bene Vedo che c'hai battute sul tempo Ciao Sky Oh ci siete anche voi Già esatto Proprio così Ci divertiremo Ne sono certa Direi che allora è tutto deciso Vero ragazze Faremo del nostro meglio Quindi abbiamo tre manager E una cosa mi sembra Allora vuoi davvero diventare manager Un deja vu mi sembra Sì Lavorerò sodo E darò il mio contributo per la squadra Mi sembra giusto Beh sembra che quest'anno avremo tre manager Mi raccomando Fatele sentire al loro agio Che altro pensavo che fosse Blade Perché dovrebbe arrivare da un momento all'altro No? Ciao Mi chiamo Rosy Red E sono del secondo anno Beh ecco Spero che diventeremo amici Ma si tranquilla Sono Jade Green Non sarò solo la vostra manager Sarò anche la tifosa ufficiale di Arion Oh Hai sentito Arion? Farò il tifo per te Quindi non azzardarti a deludere Hai già un'ammiratrice Oh Afferrato Bravo Bene Vado a prendere le vostre divise Torno subito Sì Mentre aspettate Perché non andate a parlare con gli altri? Dopotutto adesso siete compagni di squadra Eh Non mi vogliono bene però loro Sono cattivi Ah la modalità collegamento Ottimo Va bene Calmati Incontra i tuoi nuovi compagni di squadra Ok Parliamo con tutti allora Vediamo un po' Ehi tu Come ti chiami? Lars Mi sorprende con direttante come te sei riuscito ad entrare nel club Tu non eri un direttante quando sei entrato nel club? Ehi Doug Il novellino è venuto a salutare Quindi ora sei un membro di questo club eh? Doug Mercator Attaccante al terzo anno Riposo Sherwin Fai ciò che ti pare Ma se violi le regole Te ne pentirai amaramente Perché dovrai violarle? Facci piano Doug In fondo nessuno ha ancora spiegato loro quali sono le regole Fate del vostro meglio e basta D'accordo ragazzi? Eh ma ok Perché parla così? Eh sì Ci ha già detto tutto quanto Ci ha già detto Quindi è normale che faccia Spero tu abbia intenzione di allenarti come si deve Eh ma certo Immagino tu lo sappia già Ma io sono Riccardo di Rigo Centrocampista del secondo anno Ho anche l'onore di essere il capitano Ok È un peccato che tu ti sia unito a noi in un momento così difficile Arion Ma prometto di riportare questa squadra agli antichi fasti Ok Riki rilassati Rimettere in piedi la squadra Non è solo una tua responsabilità Anche noi dobbiamo dare una mano Il capitano ha un certo compito Ma se gli altri giocatori non fanno nulla Mi chiamo Gabriel Garcia Difensore del secondo anno Ci serve tutto l'aiuto possibile Quindi cerchiamo di impegnarci D'accordo? Quindi alla fine fai parte del club eh? Eh sì Ciao Ma è quello Ehi amico Devi essere quello nuovo eh Io mi chiamo Adekede Sono al secondo anno E gioco come centrocampista Ok Anche io sono un centrocampista al secondo anno Eugene Peabody Però sei arrivato quando tutto è andato a Rotary Peccato Peabody Un peccato dici Eppure gli ha permesso di entrare direttamente in prima squadra Lui è il nostro stimato compagno Michael Balzac È un attaccante al secondo anno e fa sempre così Ti ci abituerai Beh Se leggiamo Balzac e non Balzac Un'altra cosa Ok mi ci abituerò Ehi ti piace la pesca? Conosco dei posti da paura Dovremmo organizzarci e andare ad acciuffare qualche bel bestione Beh la pesca mi piace Adekede però non lo so Dunque dovrei andare qui vero? Il nostro club di calcio è un altro debole di spirito Dovrei impagniarti davvero È un consiglio Io sono Sam Gokan Portiere del terzo anno Io mi chiamo Subaru Honda Sì Gioco come difensore Ok? Va bene E io sono Won Lee Chang Cheng Del terzo anno Ah sì sono anch'io un difensore Voi ragazzi indosserete la divisa della prima squadra Accidenti che fortuna Puoi dirlo forte Ci sono voluti secoli prima che mi lasciassero giocare in prima squadra Secoli? Un anno? Sì ma ricordate Siete nella prima squadra perché siamo a corto di giocatori E... beh Fate del vostro meglio Capito? Non vi deluderemo In che ruolo giochi? Che ti frega Ecco qua JP Ehi Iron Ora siamo in squadra Quindi sarebbe utile imparare qualcosa a proposito delle informazioni Delle formazioni Guarda Sam Gokan portiere Ma nello schema sfida non è schierato in porta Che è gaff Possiamo rimediare facilmente Accede al menu Quindi seleziona tattiche E poi schemi Ok come ne ricambiamo lo schema Ehm... sì Evviva! Non avrei mai pensato di poter indossare la divisa della prima squadra così presto Non importa se è solo perché non hanno abbastanza giocatori Io sono felicissimo Non vedo l'ora di giocare Credo Scusate l'attesa ragazzi Ecco le vostre nuove divise Ehi Wow! Una divisa tutta nostra! Grazie mille Ehm... Spero che la mia si restringa quando la lavo Eh Ma è un tessuto particolare Non è come le magliette tipo questa Tutti al campo Sono un altro tessuto Non dovrebbero restringerli Finalmente ho la possibilità di allenarmi con una squadra vera Ehi Pivelli Quelli del primo anno seguono un programma di allenamento separato sapete? Ah ok Oh davvero? Va bene Chiaro Non pensavate di presentarvi qui e riuscire a tenere il nostro ritmo da subito vero? Dovete partire dalle basi ok? Ok Oh Va bene È solo che vi ammiro molto ragazzi E speravo che ci potessimo allenare insieme Sì Anch'io Ma dato che siamo qui Perché non li guardiamo? Sembra stiano per me Per iniziare Eh guardiamole allora Se non c'è altro da fare Cioè gli altri membri non giocano più nella tua squadra Cavolo Che sfiga Prima vai nella tua squadra Ora non sono più nella tua squadra Ma cosa? La prima squadra in azione Pensavo di saperci fare con i salti Ma questi ragazzi ti lasciano letteralmente a bocca aperta Sì A me fa venire voglia di migliorare più velocemente possibile Per scendere in campo e allenarmi con tutti gli altri Ah quanto sei noioso Ah quanto sei noioso Victor Oggi Victor Blade si unirà alla squadra ragazzi Cosa? Sono davvero emozionato di lavorare con te Capitano Anche questo è un ordine del quinto settore? Non sono affari suoi Travis Veramente sì Dato che la squadra la alleno io Eh Ora Che qualcuno vada a prendere una divisa per Blade Seria Toccherebbe a te Ah bravo Quella è di usata da Raimon Portale rispetto Senti un po' Io prendo ordini dal quinto settore Non da te Faccio come voglio Come osi Ehm Devo andare Collaborate con Blade È un ordine Questo è l'inizio della fine È qui per distruggerci Ne sono certo Nah Siamo spacciati Spacciati ti dico Ragazzi Riprendete ad allenarvi Voi del primo anno fareste meglio Di andare al Training Point Una delle manager è già lì ad attendervi Arion Eh Victor Hanno il primo anno toccando l'allenamento di base Siccome sei nuovo non dovresti venire con noi Sarebbe una battuta Non mi allenerò con voi E sicuramente non giocherò con voi Perché ti ho salito al club allora? Non sei venuto per giocare a calcio? Dai Arion Non perdere tempo con lui Non ne vale la pena Andiamo al Training Point piuttosto E da quella parte accanto ai campi da tennis Chissà cosa vogliono farci fare Victor Blade ha salito al club di calcio Raimon Proprio anche il gioco è scontento Campo da tennis prima vado un attimo Vorrei vedere se c'è qualcosa da luttare No davvero? Nulla? Ah è uno scrigno d'oro Fa un po' vedere Eh si scrigno d'oro Ok Ciao Mi sembra questa è l'ora di arrivare Siete in ritardo ragazzi È qui che dobbiamo allenarci? Proprio così È un posto speciale sapete? Più potete spandere i punti di passione Per migliorare le vostre abilità Dato che la prima volta per voi Ve ne regalerà qualcuno Tada È un po' difficile da spiegare Quindi perché non fate un tentativo? È ora di allenarsi Accidenti Questo training point non è facile da usare O meglio tutti i training point Questo mi era Ho imparato il momento preciso in cui premere A E facevo sempre perfetto Facevo quindi Vediamo un po' se riesco a farlo Ma prima Si cerca roba Il problema è che non c'è niente Per ora La resistenza Eh Proviamoci Vediamo un po' come stiamo messi È solo Arian e JP Oh grande Eh però a saperlo quando premere Ancora? E questo sarebbe D'allenamento di base Non pensavo che fosse così difficile Neanche io Ma se teniamo duro Sono sicuro che miglioreremo tantissimo In che stato siete ragazzi? Forza Dove è finita la vostra grinta? Non fate pappamolle Non pensavo che ti saresti stancato così in fretta Arian Cerca di fare meglio la prossima volta Mi sono spiegata Ah Ah ma ok Jade Scusa Già si è ripreso Però è immobile È una statua di sale Ciao Sky Abbiamo un amichevole alle porte E un sacco di affari da sbrigare Puoi venire a darci una mano? Oh un amichevole? Mi chiedo chi saranno gli avversari Ma anche JP Sono immobili La signorina Isa Centro sportivo Vedrà tutti i dettagli Ma solo dopo che avrete installato sette camicie in allenamento Parla con Celia Alla nuova sede Alla nuova sede? Quella di sempre Perché è nuova? Ah è qui Allora? Contro che squadra giochiamo l'amichevole signorina Hears? Wow le voci girano in fretta alla Raimon Credo che lo stiano dicendo a Riccardo e agli altri proprio in questo momento E che è la prima squadra allora? Tra due giorni affrontate la squadra superiore per prodigi Allora mister Abbiamo ricevuto delle direttive anche per questa partita? Non perdere tempo a pensare a certe sciocchezze In realtà sì Abbiamo delle direttive Gabi Il direttore Goldwyn mi ha dato questa busta pochi minuti fa Direttive sul risultato L'ordine prevede una sconfitta Raimon Junior Hears Quale superiore per prodigi Zero Tre Quindi dobbiamo perdere tre a zero? Perché dobbiamo perdere contro quei secchioni occhialuti dei prodigi? Potremmo fargli mangiare la polvere come niente Ah, grazie a quinto settore hanno vinto un sacco di partite ultimamente A quegli sgobboni interessa solo migliorare i propri voti Ciao a tutti, che succede? Non hai saputo? La tua scuola affrontare la scuola superiore per prodigi? Oh, di recente hanno correzionato una serie di prestigianti e di vittorie Negli ultimi cinque partiti non hanno mai perso Tutti pensavano che fossero solo una banda di secchioni Ma la loro squadra è davvero migliorata a quanto pare Sembra che sarà una partita difficile Ma sono sicuro che ci renderete orgogliosi Ne faremo il tifo per voi Ancora non l'hanno capito Non lo possono sapere più che altro Perché hanno quei musilunghi? Giocheranno a calcio, dovrebbero essere contenti Povero Varian, quando lo sa Devo andare Ci vediamo dopo Ciao Sam Allora saranno amichevole Forse anche noi avremo l'occasione di metterci in luce Non correre con la fantasia JP Sei appena arrivato Quindi non penso che ti faranno scendere in campo Ma un giorno giocheremo sicuramente E fino ad allora dovremmo allenarci e allenarci Oh, JP, mi è venuta un'idea Agli appartamenti uni servivano alcuni giocatori davvero bravi Potremmo chiedere loro qualche dritta Ce n'è perfino uno che ha giocato per l'Inazuma Japan Cosa? Perché non mi ha detto subito? Pensa a quanto potremmo migliorare Se un ex giocatore dell'Inazuma Japan ci insegnasse qualche mossa Andiamo subito a cercarlo Trova il giocatore famoso Chi era? Bene Kuju Questo episodio di Inazuma Eleven Go termina qui Come sempre vi ringrazio per averlo saputo In descrizione il link per Twitter e Instagram Se ancora non si riesce a guardare il canale Iscrivetevi per noi Ci vediamo domani con un nuovo video Bye bye